Impianto a formatura primo giorno per grana padano o parmigiano. L'impianto di formatura è un sistema automatizzato per la formatura dei formaggi a pasta dura, come il grana padano o il parmigiano, con il duplice valore aggiunto di ridurre la superficie occupata e di garantire la tracciabilità del prodotto. L'impianto ha lo scopo di ospitare le forme appena prodotte dai doppi fondi. Una volta caricate, le forme subiscono tre rivoltature e un cambio fascera da parte dell'operatore prima dello scarico. La funzione dell'impianto è quella di garantire il first in, first out. L'impianto è costituito da due linee identiche di formatura servite da un'unica navetta per lo scarico. Il tutto gestito tramite un pannello operatore e quadri elettrici con PLC. La struttura principale di ciascuna delle linee realizzate in acciaio inox ISI 304 è in grado di ospitare le forme su tavole in polizene ed è così costituita. Una struttura di scorrimento tavole di quattro piani realizzata con tubolari in acciaio inox per garantirne la robustezza. Tavole in polizene, materiale adatto al contatto con gli alimenti, che garantiscono una superficie piana e liscia. Per evitare deformazioni, queste tavole scorrono sui piani insieme alle forme di formaggio. Esse sono movimentate da cilindri pneumatici in grado di spostare tutte le tavole di un piano. Due elevatori che movimentano le forme sui quattro piani. Uno dal lato carico, che permette all'operatore di caricare comodamente l'impianto e movimentare le forme sui quattro piani. Uno dal lato scarico, che si interfaccia con la navetta per lo scarico del prodotto. Un impianto di lavaggio tavole costituito da ugelli posizionati sotto ad ogni tavola, garantendo così una buona pulizia. La navetta, realizzata in acciaio inox Isi 304, è così costituita. Un braccio estrattore movimentato da cilindri pneumatici che sposta la forma dalla linea sulla navetta. Un nastro trasportatore longitudinale alla linea, che favorisce la movimentazione della forma senza deformarla. Un attuatore rotativo che consente la rotazione di 90 gradi per poter interfacciarsi con un nastro trasportatore posizionato trasversalmente alle linee. Due binari che permettono la traslazione della navetta per poter ricevere le forme da entrambe le linee. La navetta ha il compito di ricevere le singole forme dalle macchine di formatura del primo giorno e di trasferirle al nastro di alimentazione per le macchine del secondo giorno. Senna Inox, 60 anni di esperienza che fanno la differenza.